Primavera al Garibaldi è la conferma di un antico legame tra lei e la città di Lucera. Che tipo di rapporto è? È un rapporto molto stretto, molto antico. È un rapporto che origina dai miei nonni, dai miei bisnonni. Personalmente è un legame molto forte perché questa città è una città che ho sempre frequentato moltissimo e che amo molto e occupandomi oramai da più di una ventina d'anni di teatro è nato il desiderio di restituire, cercare di restituire, questo è soltanto un primo passo, un'identità teatrale a questa città. Che tipo di rapporto c'è tra lei e gli attori che calcheranno il palco del Teatro Comunale Garibaldi dal 4 aprile al 17 maggio, ricordiamo? C'è un rapporto innanzitutto di grandissima stima e di grande ammirazione. Con Gigi Locascio, Alessio Boni e Marcello Praia c'è un'amicizia antica che risale ai tempi dell'Accademia, eravamo nello stesso corso. Sono venuti, Gigi è venuto molte volte a Lucera, in vacanza insomma, diciamo così. Così come in passato sono venuti Marco Tullio Giordana, Giuseppe Bertolucci e anche con Maria Paiato e con Marco Baliani c'è un rapporto di amicizia molto bello e diciamo tutti loro hanno generosamente risposto a questo invito perché sono tutti attori molto impegnati. Dagli attori di grande esperienza ai giovani talenti, qual è il consiglio che Fabrizio Gifuni dà a chi è innamorato di questa professione? Il consiglio è un consiglio di resistenza e di allenamento a tenere la schiena dritta, non soltanto sul palcoscenico, su un set ma anche fuori e quindi di non disperdersi in tante cose ma cercare di individuare il prima possibile un percorso e una strada. La Puglia Film Commission è stata premiata come miglior Film Commission dell'anno, che percezione ha lei? La Puglia Film Commission è una delle realtà più importanti d'Italia, la conosco bene, penso che abbiano fatto un lavoro molto importante. La Puglia è una regione con delle potenzialità straordinarie, molte delle quali sfruttate. Forse questa zona della Puglia, la Capitanata, la parte più a nord, è quella che per una serie di motivi è rimasta più segreta, ancora più nascosta, ma secondo me può riservare delle grandissime sorprese. Sono venuto tante volte a girare in Puglia e spero di tornarci.